sono passati tipo eoni dall'ultimo video che ho fatto e sono successe un sacco di cose quindi non sono riuscita a carburare bene quest'estate quindi non so dovrò riprendere a fare i video adesso spero praticamente sono stati in vacanza quindi questo video vacanziero quindi quello che ho fatto ho visitato eccetera però ho organizzato anche un cosplay nella mia città quindi ha preso un sacco di tempo anche questo evento perché sono dovuta magari andare in un'altra città a Cagliari a prendere le cose degli sponsor i premi quest e quell'altro cercare gente e fare cose è stato davvero dura anche se è stata più dura per l'altra organizzatrice penso perché poi io la settimana prima dell'evento sono partita in vacanza quindi ho praticamente mollato alla grande e l'organizzazione a lei quindi che brava organizzatrice e infatti oltretutto sono tornata tre quattro giorni prima il cosplay era il 29 di questo mese e io sono tornata il 26 e oltretutto avevo il cosplay da fare quindi ho dovuto cucire il vestito ho portato Sophie Hatter dal castello eroante di Howl e l'ho dovuto cucire in due giorni mi sa l'ho cucito sì due giorni più o meno poi il sabato gli ho attaccato i bottoni ma alla fine è una cosa molto veloce quindi adesso vi farò vedere un po' i luoghi dove sono stata quest'estate sono partita con la mia famiglia siamo andati a trovare mia sorella che si trova in lussemburgo e quindi abbiamo girato un po' lì tutto il contorno del lussemburgo perché comunque è stato abbastanza piccolo e non c'è un tubo però gli stativi di trofi sono abbastanza interessanti quali Francia, Germania, Belgio eccetera e adesso quindi vi farò vedere un po' di cose poi dopo il video vi farò vedere cosa ho comprato non che sia molto perché ho comprato tipo tre cose sono pochissime quindi sto per farvi vedere un po' e parlarvi un po' nel mentre delle cose quindi ci vediamo dopo bene questo era il fiume di Mosella che non ricordo in quale città però e basta c'era un sacco di cigni e pennuti questa invece era la cattedrale di Messe era bellissima si chiama la cattedrale di Saint-Étienne ovvero Santo Stefano e io sono davvero impazzita perché comunque mi piacciono un sacco le chiese soprattutto quelle in questo stile con tutte queste vetrate super colorate e poi era bellissima cioè nient'altro da dire infatti su facebook ho messo un sacco di foto di vetrate solo vetrate praticamente e questo invece era il fuori la seconda entrata c'erano queste statue magnifiche cioè era rifinita bellissima davvero questo invece era praticamente il giardino dell'hotel dove abbiamo alloggiato a Bruges e praticamente era un bosco cioè era fantastico c'era un sacco di verde ovunque e quello che vedete là in fondo è il prato infatti davanti all'hotel della fontanella e c'era anche un piccolo lago con l'acqua e con i vari pennuti ovvero cigni e anatre e quello è l'hotel questa invece è la spiaggia che si trova a Ostend è tipo enorme cioè ci sono un sacco di metri di acqua e di sabbia e questo è il mio primo bagno al mare e l'ho fatto nell'oceano quindi primo e unico bagno al mare un sacco di acqua questo locale era fantastico era un locale completamente anni 50 era bellissimo le cameriere erano fantastiche era tutto fantastico davvero un sacco carino se siete arrivati fino a qui e non vi siete rotti là guardando cosa ho fatto cioè i luoghi andiamo a vedere cosa ho comprato che qui sono tre cose messe in croce perché non ho trovato cose particolari e carine quindi ho dovuto un po' cioè ho restretto il mio campo ovviamente non c'era quasi niente di lolita cioè lolita non ne ho visto io lì né in Luxembourg da nessuna parte nessuna lolita da nessuna parte quindi ovviamente non c'erano neanche negozi adeguati quindi niente di niente niente acquisti lolita quindi il primo acquisto è questo è tipo bellissimo so che c'è anche in Italia però io non li avevo ancora visti è un peruche di un mini peruche di un dumbo tondo è super tondo è bellissimo guardate cioè e poi sotto si usa in teoria per pulire il telefono se può usare è troppo carino quindi non ho saputo resistere anche perché la Dumbo era uno dei miei film preferiti quando ero bambina cioè io conoscevo il libro avevo il libro di Dumbo e lo conoscevo a memoria nonostante io avessi qualcosa come tre anni quando lo leggevo leggevo perché io non lo sapevo leggere a tre anni le persone pensavano che io sapessi leggere perché lo conoscevo a memoria quel libro quindi invece no lo sapevo sulla memoria non sapevo leggere che incapace comunque Dumbo è bellissimo pulcioso poi ho comprato questo ventaglio ok con ha questo piccolo coso qua pendaglietto e questo l'ho comprato a non mi ricordo dove l'ho comprato comunque era una cittadina davvero carina bellissima ed è fatto così tipo in pizzo mettiamolo qua così lo vedete è troppo carino se non anche gli ombrelli i parasoli diciamo solo che avendo solo la velgia a mano non potevo metterlo non potevo comprarlo quindi purtroppo niente però sono un sacco carini e li ho visti anche da qualche altra parte da poco in Italia forse sul Lemp se non sbaglio però questo era carino quindi me lo terrò come ricordo di quel viaggio che non ricordo in quale città forse però dettagli alcune delle alcune delle cose che ho comprato sono già state digerite da un sacco di tempo perché quando siamo andati in Belgio siamo andati a Bruges e praticamente nelle vie del centro c'era cioccolateria negozietto cioccolateria era pieno di cioccolaterie quindi mi sono comprata cioccolato come se non ci fossero domani e ne ho mangiato davvero tanto anche perché entravi nel negozio di cioccolato e ti davano magari un assaggino o qualcosa quindi tipo ero che bello poi siamo andati in un'altra città che anche di quella non ricordo assolutamente il nome e c'erano dei vestiti particolari che ricordavano molto quelli tirolesi quindi con molto Heidi e Oktoberfest e in realtà ne volevo comprare uno perché era bellissimo era tipo tartan come fantasia con il pizzo nero era fantastico solo che costava 200 euro e quindi ero tipo eh no sì un po' troppo caro quindi poi sono andata in un altro negozietto e ho trovato questo che è praticamente quello che si dovrebbe mettere sotto il vestito però era un sacco carino non lo senti a corto perché cioè è a pancia fuori io lo metterò ovviamente sotto i vestiti quindi nessuno si accorge che è a corto però è un sacco carino cioè ha il pizzo alle maniche in non so questo wall diciamo poi ha tutto il pizzo qua e anche qua e poi lo scollo ha non a cuore però si può diventare a cuore perché ha queste tirelline così si può stringere o meno e dietro non ha niente semplice un sacco carino e me ne sono innamorata perché poi oltretutto era scontatissimo cioè se non sbaglio costava ma intorno ai 70 perché quei vestiti sono particolari e costano un sacco e le persone e le ragazze le mettono solo in una certa in un certo periodo dell'anno a quanto pari che non ricordo quali sia non mi sono fermata alle piegazioni però costano un sacco e infatti anche queste camiciole che si mettono sotto tipo costava 70 euro e le ho pagate 13 forse quindi era super mega scontata era bellissima quindi ho detto no dai vieni a casa con me ne farò un buon utilizzo per irolita quindi niente ho finito le cose comprate ho comprato un paio di cilacrinte però davvero molto carine che vi farò vedere però nel prossimo video che accumulerò un sacco di cose nel prossimo video perché c'è troppa cosa che vi devo far vedere quindi parliamo qua altrimenti vedo un video troppo lungo quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao